Il polo dell'elettrico chiaramente per quanto ci riguarda è fondamentale, stiamo partendo con le vendite, abbiamo aperto proprio le vendite di Kangoo ZE, di Fluance ZE qui al Motor Show, ma su Twizy in particolare che puntiamo? Anche qui è un'anteprima mondiale, per la prima volta il pubblico potrà provare la Twizy su un circuito che abbiamo predisposto opposta qui al Motor Show, è un'esperienza unica perché è un mezzo che non è uno scooter, che non è una vettura, che inventa un nuovo modo di interpretare la mobilità urbana con delle caratteristiche, quelle del motore elettrico, che sono eccezionali per gli spostamenti urbani, grande accelerazione, grande coppia disponibile fin da subito, quindi un mezzo molto piacevole e divertente da utilizzare che accoppia anche a questa grande praticità un design che è unico e il fatto di essere un mezzo veramente innovativo. Al Sonone di Bologna chiaramente non poteva mancare l'elettrico, siamo nel momento clou della nostra strategia di commercializzazione dei veicoli elettrici, proprio oggi apriamo gli ordini al grande pubblico per quanto riguarda Kangoo ZE, Fluence ZE, ma qua abbiamo la possibilità di vedere ancora una volta Zoe Preview, quindi la vettura che prefigura questa piccola cittadina, tutta elettrica, che arriverà entro la fine dell'anno sulle strade italiane. Io dal mio punto di vista la definisco la più bella vettura che negli ultimi vent'anni Renault ha fatto, riprende questi concetti di design che abbiamo già visto nelle concept che abbiamo visto prima su Twingo, li porta al massimo con delle linee particolarmente pure e dinamiche e credo che sia un grande esercizio di stile. Ma a parte questo abbiamo una grandissima novità che è Tweezy, è un veicolo che è innovativo al 100%, è innovativo perché non è uno scooter, non è una vettura, è un nuovo modo di concepire la mobilità urbana e per di più è anche un mezzo 100% elettrico, quindi perfettamente ecologico, è un mezzo che ha un design eccezionale, particolarmente dirompente, che romperà tutti gli schemi da questo punto di vista, ma la vera novità è che qui a Bologna per la prima volta in assoluto i clienti potranno provare, nessuno al mondo fino ad oggi ha potuto provare le Tweezy, qua a Bologna ne abbiamo sei a disposizione del pubblico che passerà sul nostro stand per poter provare le caratteristiche dinamiche di questo mezzo che vi assicuro sono eccezionali, divertentissime. Venite anche voi a provarlo.